No, no, questo qua ci andiamo Ciao, grazie, ciao No, no, io non Ma come mi ha anche iniziato? Ma che fa di mi ha anche iniziato? E' stupido che mi donna, c'è a me che ci sono venuto Eccoci qui ragazzi Oggi siamo alle giostre di Nettuno insieme a mio figlio e Diego Ciao ragazzi Oggi faremo delle sfide io contro Alex, ok? A tutte le giostre Vediamo chi vomiterà per prima Ok, in contemporanea lui ci trasmetterà su Twitch E poi c'è una grande sfida Al Punchbowl chi batterà Alex, non me, Alex Vincerà 50 euro 50 euro a tutti Vediamo cosa succederà ragazzi Ma comunque io sul colologio non ci vado Sì che ci vado Ora distruggerò Alex e le macchie d'ascolto ragazzi Lo distruggerò Ecco qua ragazzi Ci hanno anche regalato i gettoni Grande E fanno veramente Adesso distruggerli sulle mega macchine d'ascolto Alex te sfondo Te sfondo Alex Te sfondo Aspetta te sfondo Noi vai, dai, 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 dai Dai, dai, dai Oh! Tu stai, tu stai, mi amare! Tu stai, tu stai, tu stai! Tu stai, tu stai! Tu stai, tu stai! Stai bene! Non lo so! Sicura, no? Si! Grazie! Grazie! Ma le dobbiamo! Oh! 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 Sono Sed�! Oh! Oh, fafw. Oh, mi dom'è ci sono venuto! Oh, non troppo forti Alex, sento mi stacchiamo a mano, sento Speggio di ragazzina, aspetta Mi ha giocato la busta, andiamo a mano Ah, no Alex, tu ti mi girano a fare Alex, Alex, non cazzo fare Alex, non stai qua, Alex No, ma non sentivo più Ma non sentivo più Ma tu sei morto Quando te lo dico, mi viene a un mito Dai, mi gira la testa Oh, oh, oh Alex, Alex, Alex Basta, papà, io Io sto a farmi dare Oh, sto a farmi dare Lasci Che non te lascio Non te lascio Sono tanti, aspati La gente sotto sui bambini Questa fenomenal Questa fenomenal manco di mano Perché va Alla passato pure Io, tu stivo, sono melancho Aaaaaah Alex, oh Alex Aaaaaah Non ci rendo più su stai giostra Non ci rendo più su stai giostra Ma che sei morto L'ha presa comunque Me l'ho cagato un mano Sì Si è cagato il mano più roglievo Oddio Oddio No, no, regà Si è cagato il mano Stava a farmi dare Andiamo a fare questo tipo Mamma, lascia stare Questo qua Quale? Ma che cavolo c'è? Dai, dai Ma non esiste proprio Dai Ma non esiste proprio Dai Mi gira la testa, aspetta Non mi tocca Aspetta, non mi tocca Non mi toccava Ma che sei morto Mannaggia Mannaggia A me che mi avete fatto niente Dove ne andrà poi a Mila Pilar Ma che sei morto Ma che sei morto Mannaggia, regà Ma chi me lo fa fa? Ma chi me lo fa fa? Alex, guarda me la paghi Alex, ti giuro che me la paghi Alex E sto chiuso bene, sì Se io oggi non vomito Guarda, se io oggi non vomito Sù Tira da minella c'è l'otto Sincera, lo sai Dopo quella sì Dopo che ho visto quello Così finita a quella Questo non lo faccio da tutto per voi A me che gira l'avesta L'atto Perché eravamo a male Perché eravamo a male tutte e due Lo sai Sei pronto? Basta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Basta Ma come mi ha anche iniziato? Ma che fa di mi ha anche iniziato Ma che cosa? Oh, no no eccolo mannaggia guardami ma perché sono venuto qua io ma perché sono venuto qua io 15 anni faz l'ho fatto ok 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 Non faccio più nessuna giostra Ale! Non faccio più nessuna giostra Ale! Vi do un consiglio, non mangiate prima di venire le giostra! Che succede adesso? No, niente, per stabilire di me! Grazie a te! Che vergogne! Vieni, vieni! Guarda! Al prezzo! Però ho sentito la pasta che saliva piano piano eh! Grazie eh! E se vergogna ti chiedete qualcosa! È bello! Dopo che ho mangiato la pasta col pollo è veramente pesante! Mi sento pure il pollo che vivo dentro lo stomaco che sta risalendo! Non hai rotto vero? Sicuri? Sì! Sicuro che ne hai rotto! Sì! Tranquillo! Sì! Tranquillo! Quanti amici hai su? Prendici! 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 Non scelgo la regione! E ridi ridi ridi! Oh ridi! Mannaggia quella canadeva! Mannaggia! Mannaggia ma chi me l'ha fatto fa a me? Sì! Mannaggia! Eh pure a me! Oh ditegli che dura poco perché qua sbratto io eh! Ma io spero che quando devi fotte l'acqua... Ma adesso andate qua... Grazie! Non metto il fatto! Ecco! Mirko ecco! No! Oh digli che ho fatto durare poco eh! Ho fatto durare di meno! Diggi di meno! Diggi di meno! E ora? Stai venendo a rimettere a me! Se non rimetti... Ecco! Ma perché faccio queste cose? Ma perché faccio queste cose? Ecco il pollo che sta! Ecco il pollo! Oh! E' risuscitato il pollo! Ecco il pollo! Ecco il pollo! Guarda! No, guarda! Ciao! Bene! Ridete voi! Ma quando finisce? Sì, tranquillo! Vai! E via! E vai! E' il pollo che sale! Ecco il pollo che sale! Ho capito! Ho capito! Ho capito! Ho capito! Ok! Ok! Ho detto ok! Questo perché dici questo è famoso lo faccio sannare più! Ma non ci tengo proprio ad andare più! Ok! 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 Perfetto! Ok! Eh? Ok! E dici che sto fa? Ma è finito! Ok! E' finito! Ok! Ok! mannaggia Alex, mi sta finita di niente, mannaggia a me, mannaggia a me, mannaggia ok, oh, oh, questo ricomincia, mannaggia una puttata, mi sta finita di pollo e questo ricomincia, ok, mi sta a salire vomito, mi sta a salire, mannaggia, ma chi me l'ha fatto fa, ma chi me l'ha fatto fa, ragazzi, ora facciamo il punchbow, chi batte Alex vince 50 euro, non ti batte lui, facciamo così, offre la casa, offre la casa, poi chi vince io, al punchbow, chi vince ci do 50 euro, vai, ok, chi fa più di tutti 50 euro, vai, 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 bam, ma chi mi ha ammenato qualcuno, Massimo, hai ammenato, vai, 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 già lui, ora dovrebbe battere lui 9,60, vediamo chi batterà ai 9,60, vai, ha fatto? 9,60, 9,60 9,60, 68, l'ultima ce l'hai puolato tu, vai, vai. e i 50 euro vanno a noi ha vinto grande che hanno vinto loro ragazzi io no io non lo faccio non mi faccio male un grande grande io farei il trenino per il rilassamento al verso al verso non capisce e stavolto ho vinto Non avete visto, Sant'Eno, delico di qualità. Non so, io opterei per queste, dici, queste le gioste. Ma queste non ti mandano salire, dai. No, no. Queste sono le gioste che adoro Alfredo, ragazzi. Sono molto rilassanti, specialmente dopo quello che mi hanno fatto fare dopo aver mangiato. Questo qui mi rilassano, ragazzi. Siete pronti? Questo è bello, vedi? Ma papà, vedi che bello? E papà li porta sulle giostrine, anche, guarda. Ecco, guardate. Sì, siamo noi. Siamo noi, i due deficienti qui sopra. Sì, ole. Ora, ora si va. Ma è troppo veloce che va. Vai, va, va, c'è, ragazzi. Sai, questo pezzettino qua mi fa po' rimettere. Ho fatto questo pezzettino qua, lo butto quello. Guarda, guarda, guarda. No, non era questo. Ecco, questo qua. Questo qua era, questo qua era, questo qua era. Ok, finito. Ma sto, fermo, 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 ok. Basta, basta. Vabbè, dai. Rilassante. Sì, però quella botticina mi ha fatto un po' lo sogo, guarda. Cosa, sto coso patillava? Almeno uno, dai! No! Cacchia, crediamo che era più facile, però, eh. Cosa, ero, ero. E' solo, ero. È solo, ero, ero. Guarda già, hai vinto tu dai. A questa hai vinto tu. Anche qua abbiamo fatto schifo, diciamo che hai calato sta cosa per pietà. Ha cozzino, cozzino. Sembra cozzino a cozzino. Fai qualche effetto, tipo? Mentre già ti stop, così ti seguo, metti su. La voce benzi te. Ecco qui ragazzi, abbiamo terminato il video. Abbiamo guadagnato una bottiglia di Santero, di miele, una tartaruga ninja, una boccettina d'acqua, un mal di stomaco. La cosa era che io sono scritto a lui e faccio la mano a lui. Il problema è che ho mangiato e vi devo dire che ho sentito il pollo vivo dentro di me. Mi sta venendo da rimettere e vi devo andare a casa. Per questo chiedo subito sto video. Se volete vedere altri video, scrivete, commentate. Ma non gioste, mi raccomando, le cose è easy, ok? Easy. Ora devo andare a casa perché mi sto a vomita tutto. Bisogna ragazzi. Ciao.